oggi leggiamo quel fiore è mio di alice hemming buongiorno nuovo giorno buongiorno sole buongiorno foglioline che bello rivedervi cucù ehi che cosa è stato e quello che cos'era flap 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 e questo chi è uccello che cosa c'è scogliattolo sta per succedere qualcosa di tremendo uccello c'è stato un fortissimo cucù e poi un misterioso e poi un uccello con una coda mai vista stava per volarmi addosso dunque quel cucù era il verso del cuculo quel bzz era il ronzio di un'ape e l'uccello era una rondine sai che cosa vuol dire che è arrivata la primavera primavera e ci piace la primavera certo che si oh uccello guarda c'è un fiore com'è carino è giallo è perfetto sembra un piccolo sole si scogliattolo anche i fiori ci dicono che la primavera è arrivata beh avevi ragione la primavera mi piace senti uccello il fiore è sbocciato tra il mio albero e il tuo ma è un po' più vicino al mio quindi è mio vero uccello si d'accordo scogliattolo la mattina dopo che cosa stai facendo c'è vento uccello non voglio che il vento soffi via il mio fiore come aveva fatto con le mie foglie lo scorso autunno non può soffiarlo via il fiore ha le radici scogliattolo vabbè comunque è per sicurezza e adesso che stai facendo non voglio che il mio fiore si bagni ma deve bagnarsi un fiore ha bisogno di acqua per crescere ah già non ci avevo pensato la mattina dopo ancora vattene via sciò che cosa stai facendo ora hai visto quell'ape l'hai vista si stava mangiando il mio fiore ma no scogliattolo stava solo raccogliendo il polline è una cosa che fa bene al fiore scogliattolo io lo capisco che gli vuoi tanto bene però quel fiore non è solo tuo che cosa e di chi altri sarebbe è un fiore selvatico è lì per tutti sì bravo così lo sciuperanno non voglio correre rischi lo terrò al sicuro qui sotto più tardi uccello tragedia il mio fiore sta male oh scogliattolo che dici sopravviverà lo spero però adesso devi lasciarlo respirare libero al sole e all'aria quella notte quella notte povero fiorellino mio che cosa ho combinato non riuscirò mai più a chiudere occhio infatti e la mattina dopo oh uccello vieni a vedere da dove sono sbucati che bellezza adesso ci sono fiori per tutti quello là è il mio lo riconosci anche tu vero? viva i fiori quel fiore non è solo tuo scogliattolo l'ha imparato i fiori selvatici sono di tutti esci e cercali anche tu in giardino nel bosco nei prati divertiti a fotografarli o a disegnarli osservando la natura scoprirai che i fiori sbocciano dove meno te lo aspetti i fiori sono esseri viventi un fiore ha bisogno di acqua per crescere il fiore è una parte della pianta le piante per vivere e crescere hanno bisogno delle stesse cose di cui abbiamo bisogno noi umani e cioè luce acqua aria e cibo le piante producono il proprio nutrimento usando l'energia del sole gli impollinatori quell'ape si stava mangiando il mio fiore ma no l'ape stava solo raccogliendo il nettare per fare il miele le api sono impollinatrici vuol dire che raccolgono anche il polline che poi portano di fiore in fiore questo permette alle piante di riprodursi sono impollinatori anche le farfalle altri insetti alcuni uccelli e i pipistrelli è per attirare loro che i fiori sono così belli e profumati i fiori sono buoni sì anche da mangiare molti insetti uccelli altri animali li trovano squisiti e alcuni fiori sono buoni anche per noi ci fanno bene in modi diversi servono nella preparazione di molti medicinali ma anche soltanto a guardarli ci fanno sentire più felici e rilassati amici dei fiori informati su di loro impara i loro nomi e dove crescono se hai un giardino un balcone o anche solo un davanzale puoi provare a coltivarli a casa o a scuola chiedi di lasciare un po' di giardino non falciato in modo che i fiori selvatici possano crescere costruisci una casa per insetti non solo i fiori annunciano la primavera scogliattolo ha sentito il richiamo del cocù il ronzio dell'ape e ha visto volare una rondine conosci altri segnali che la natura ci dà per annunciare la primavera grazie a tutti